Ciao a tutti ragazzi, qui è il vostro Alert che vi parla e in un'incredibile successione di eventi ce l'ho fatta. Ho raccolto tutti gli altri progetti che mi mancavano e adesso ho oggettivamente tutto quanto, o almeno circa, quello che questo zombie può offrire. Almeno per quanto riguarda oggetti raccoglibili direttamente in partita, perché su questo zombie ci sono ancora tante cose da fare, mi manca ancora il grind delle mimetiche, che sono veramente tantissime tra MV2 e MV3, e anche tutto il resto delle sfide. Più comunque i livelli di questa season e il Battle Pass, ma per quanto riguarda, finalmente, i progetti mancanti ci sono riuscito. E questa cosa mi ha richiesto molto più tempo del dovuto. A parte vedere i progetti che hanno appena implementato in questa stagione 1, che mi mancava giusto l'attrezzo leggendario, che mi ha richiesto ben 6 vermi rossi di questo Grey Lorm, non consideriamo il fatto che durante un verme sono crashato, ma tre volte di fila averci soltanto doppioni per tre membri della squadra, inizia a essere un po' bruttino, ma ieri sera ce l'ho fatta, e infatti saluto Loray e Black, che mi hanno accompagnato in questo game. Ma non soltanto questo, che già sarei stato veramente molto contento, in aggiunta, che serviva invece a tutti quanti del team, il progetto per il cristallo raffinato. Io non so se hanno sbagliato qualcosa nel codice o simile, ma questo progetto è dannatamente introvabile. Io non ho un tempo di gioco mostruoso su questo zombie, ma ci ho giocato veramente tanto tempo, e ho fatto veramente tanti, ma tanti contratti in zona 3, e questa è la primissima volta, e probabilmente unica nella mia vita, in cui ho trovato questo progetto. Nel mio team l'unico che ce l'ava già era Sanyo, che anche lui saluto, e l'ha trovato, se ricordo, diverse settimane fa, giocando tranquillamente da solo, ha visto il progetto, l'ha preso e risolto. Ma di tutti quanti noi del resto del team, nessuno l'aveva mai trovato, e se ricordo anche nel mio server di Discord, in tanti lamentano la carenza di questo progetto, che sembra veramente introvabile. Purtroppo non credo che nelle statistiche di zombie ci sia un counter per i contratti completati, e comunque conterebbe anche quelli in zona 1 o 2, quindi non sarebbe corretto dire magari che ho fatto migliaia di contratti in zona 3, ma sono abbastanza sicuro di averne fatti centinaia. E quando dico centinaia, non penso 100, 200, 300. Io dico piuttosto 500, 600. Ripeto, non ho un tempo di gioco mostruoso, ma comunque a questo zombie ci ho giocato a sufficienza, e i contratti in zona 3 ne ho fatti veramente tanti, vedendo tantissime altre volte i progetti della Thomson, i progetti di Elemental Pop e robe del genere, ma ho questo cristallo raffinato, non voleva uscire. Fatemi ha tirato un bel paio di urli. E ottenere quindi in un'unica partita sia il progetto del cristallo raffinato, sia l'attrezzo leggendario che mi mancava, è stato veramente fantastico. Un game davvero completo, proprio da dire, ok, posso chiudere il gioco e andare a dormire, perché tutto è completato, sonni tranquilli di vittoria e gloria. Tutti gli effetti sono quindi molto contento di poter dire che per adesso ho trovato tutto quanto, perché altrimenti questo progetto del cristallo raffinato avevo già detto come battuta che l'avrei trovato in stagione 5, perché non l'avrei più trovato se non per tanti mesi. E sono comunque curioso e speranzoso che possano in qualche modo modificare il sistema di progetti, se magari per in parte ridurre i doppioni, in qualche modo un pochino studiato, non per fare per forza come nell'etero scuro che tutto quanto è assicurato da certe attività, che comunque non sarebbe malissimo, ma già per dire con il verme rosso, appunto, Graylorm, qua c'è un progetto assicurato, ma il fatto che possono uscire dei doppioni è un po' disgustoso, perché appunto io per trovare i miei tre progetti ne ho fatti circa sei di questi vermi. E dicevo nel mio video, comunque giocando con i compagni, possiamo scambiarci i progetti, ma se tutti trovano dei doppioni, inizia ad essere un problema veramente grossino. Per quanto riguarda il resto dei progetti presenti nel gioco, che comunque sono abbastanza, appunto questa mia mancanza del cristallo raffinato non lo capisco benissimo. Non so se il drop rate è veramente basso per motivi sconosciuti, o la mia sfortuna, anzi la nostra sfortuna di tutto il mio team, era veramente veramente tanta. C'ho una toglia che ci sono riuscito, e la mia speranza è soltanto che in futuro questi progetti possano essere incastati per essere soltanto in certe attività e ottenerli in maniera un pochino più decente. Specialmente se qualcuno magari gioca più e più volte, è giusto che questa percentuale possa alzarsi leggermente. Non che diventi sempre tutto assicurato, perché magari quello diventa esagerato, però mi sembrava di giocare come ai tempi di Destiny, ovvero fai la stessa attività settimane e settimane, mesi e mesi, nella speranza, pregando in ginocchio, sacrificando chissà che cosa ai Santi, di avere quell'oggetto che ti manca. Qua mancava soltanto un dannato progetto e alla fine ce l'ho fatta, ma richiesto secondo me veramente troppo tempo. E in aggiunta, dato che abbiamo fatto tante volte questo verme rosso e altre attività in zona 3, la cosa che sicuramente dovrebbero cambiare dei progetti è il loro cooldown. Non è assolutamente possibile che certi progetti abbiano due o tre giorni di delay. È una cosa veramente mostruosa. Capisco che alcuni oggetti sono veramente forti, le piastre d'oro aggiunte di recente sono una cosa mostruosa, quindi è giusto che non possiamo utilizzarle tutti i game. Però per dire il cristallo puro, che ok è forte, ci porta l'arma al pack a punch al 3 fin da subito, è ok, ma tre giorni è assurdo. I cristalli comunque si trovano giocando e il pack a punch al 3 comunque in partita si fa, non è una cosa assurda che pochissimi eletti riescono a completare. Stessa cosa per quanto riguarda gli attrezzi, che è già un pochino meglio, se ricordo quello leggendario ha circa un giorno di delay, che non è pessimissimo, ma potrebbe essere meglio. In tanti hanno detto giustamente che questi tempi di recupero dovrebbero essere almeno dimezzati e su certe cose sono d'accordo, già per diri perche che sono tre ore lo ridurrei magari a due ore, altri oggetti che sono due o tre giorni lo metterei tranquillamente a 24 ore, o molto più stupidamente, questi tempi andrebbero bene se ci fosse lo stesso sistema degli slot assicurati delle armi. Ergo che se io gioco, tutto il tempo che ho giocato va a ridurre questi cooldown, il che avrebbe veramente tanto senso perché anche un cooldown molto lungo se io gioco diverse ore lo abbasso di queste suddette ore. Per cui i perk possiamo rifarceli molto in fretta, che anche quelli non è che siano mostruosi, spawn in partita, vai al Wunderfit se compri tutto quanto e i punti ce li hai sempre. E anche per altri oggetti molto forti l'importante sarebbe o aspettare il tempo o giocare, che mi siano le alternative a tutti gli effetti perfetti perché appunto se gioco pochissimo aspetto il tempo che devo e poi ho gli oggetti. Se invece gioco veramente tanto, quegli oggetti si recuperano un po' più in fretta. O altri dicevano giustamente che se ritrovo lo stesso progetto, dovrebbe togliermi il cooldown all'istante. E concordo in pieno. Se sto facendo un cristallo grezzo, l'ho utilizzato e aspetto le mie, non ricordo se sono 8 o 10 ore, se ritrovo il progetto e lo estraggo, dovrebbe all'istante togliermi tutto quanto perché a tutti gli effetti ho ritrovato il progetto e il fatto che ce l'abbia già teoricamente mi mette un ostacolo perché invece un altro player che non ha quel progetto lo trova e subito può utilizzarlo. È una cosa un pochino strana che spero possano nel tempo un attimo rivalutare seguendo anche il feedback della community. Qui ragazzi, questo era il mio video anche giusto celebrativo per dire che ho trovato tutto quanto e esporre un attimo le mie opinioni per questi progetti che comunque sono delle cose molto fighe. C'è a dire che magari per certi versi sono un po' esagerate perché sponare con tutto fin da subito è un attimo assurdo ma quantomeno divertenti se implementate come si deve. Questa prima implementazione come è al lancio e fino ad adesso va bene ma può essere sicuramente migliorata o quantomeno cambiare alcune cose perché altrimenti se vuoi il setup davvero perfetto giochi una volta e poi dici ok ragazzi ci diranno tra tre giorni che ho di nuovo il setup che mi serve. Mi sembra un attimo assurdo. Voglio quindi sapere ragazzi invece le vostre opinioni se avete trovato tutto quanto o c'è magari anche voi un progetto che ancora vi sfugge e state magari continuando a fare sempre le stesse attività che sia il verme, la zona 3 o l'etereo scuro per finalmente trovare quello che vi serve. In aggiunta a quello che ne pensate di questi cooldown dei progetti che ho notato che tutti quanti sono totalmente in disaccordo non dovrebbe essere totalmente zero perché averci tutto quanto da craftare all'istante centinaia di volte è un pochino troppo ma è giusto che ci sia un cooldown quanto meno sensato altrimenti passo più tempo ad aspettare che a giocare. Il video di second code è qui spero come sempre che vi sia utile e vi sia piaciuto come sempre trovate in descrizione tutti quanti i miei social se volete Instagram, Twitch e il canale Discord ci vediamo come sempre a un prossimo video un abbraccio ala a un prossimo video